Grazie per l'invito, mi associo ai saluti, tende, sindaco, punta, consiglieri. È un momento difficile, complicato per il Paese, c'è questa parola magica, spending review, dietro la quale si nascondono tantissime, tantissime cose, ma i cittadini italiani, i cittadini lucani, i cittadini di potenza, sono sufficientemente intelligenti e preparati per discernere bene tutte le questioni. Apprezzo la moderazione del mio amico e collega Latronico, moderazione probabilmente che deriva anche, come ha detto Perrelli, dal fatto che in questi anni vi sono stati momenti di tensione tra gli appartenenti all'ordine giudiziario e la politica, però francamente questa paventata chiusura della Corte d'Appello nulla ha a che vedere con questi fatti e con queste situazioni. Siamo in un'altra dimensione, si può certamente discutere di come deve essere organizzato lo Stato, di come si dà efficienza, di come la digitalizzazione ci porterà a fare tante cose. Penso che nessuno voglia immaginare una giustizia fatta con l'economy sharing. L'economy sharing la possiamo applicare alle macchine, alle case da affittare, a molte altre cose simpatiche, ma non credo che si possa applicare ad un istituto fondamentale di un paese, ancorché democratico. E allora, diciamo, io non so adesso di quale partito sono, non sono né di centrodestra né di centrosinistra, tendo a dire, esatto, 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 posso andare anche io, osservo un Parlamento pro uno, osservo un Parlamento che non riesce a dire la propria, osservo una crisi della democrazia, caro Cosimo, e caro Speranza. Allora, si può e si deve assolutamente riformare la finanza pubblica, ma senza indaccare i postulati, i fondamenti di quello che chiamiamo Stato, ancorché in un'epoca dove ci dovrebbe essere un'Europa che purtroppo non c'è o un'Europa che c'è solo sul vincolo finanziario. Allora, se immaginiamo e se vogliamo affrontare il problema dal punto di vista del contenimento della spesa, io l'altro giorno ho fatto una battuta all'illustre Ministro della Giustizia, che viene dalla mia stessa esperienza politica, e questo, diciamo, comincia a far interrogare ognuno di noi su chi è, su dove stiamo andando, su che cosa stiamo facendo, in profondità, ho detto, ma veramente pensi che risolvi qualcosa dal punto di vista del contenimento della spesa, sopprimendo quattro corti d'appello. Quando sappiamo tutti, non entro nel merito, insomma, l'ha fatto bene il consigliere Potenza e gli altri operatori del settore, quando è complesso, diciamo, riorganizzare la macchina della giustizia. Va fatto assolutamente, ma non c'entra proprio niente l'idea di togliere quattro corti d'appello, perché questa idea non riguarda le corti d'appello, ma riguarda un'altra cosa. Allora, c'è un inghippo nella vicenda lucana. Purtroppo, a volte, le assonanze tra il governo nazionale e il governo regionale ha prodotto molto bene per la Basilicata. Purtroppo, altre volte, come nel caso del Tribunale, non ha prodotto bene l'assonanza-dissonanza. Oggi l'assonanza tra il governo nazionale e il governo regionale, secondo me, produrrà molto male a questa regione. Allora, c'è stato un primo inghippo ed un primo errore tragico, perché la vicenda della corte di appello di Basilicata, delle altre corti d'appello, ma di questa in particolare, forse trova una qualche, non dico origine, ma sicuramente una qualche sensibilizzazione derivante dal fatto che è stato accorpato al Tribunale di Lago Negro e il Tribunale di Sala Consigli. Questo crea un problema con la Limitro Campania. Non facciamo finta di non sapere, non facciamo finta di non capire, perché poi, nonostante qualcuno pensi in questo Paese che possa farsi, permettersi di tutto, così come è accaduto una notte, all'improvviso che un movimento nato da poco ha preso il suo 25%, può accadere in qualunque momento, perché la democrazia, fino a quando ce l'avremo, è importante esattamente come il fallimento e come la morte. Si guarda tutto. Quindi lì c'è stato un primo problema. Doveva rimanere il Tribunale di Mera. Così era anche negli atti del governo. Ed è comparso invece questo accorpamento al Tribunale di Lago Negro. Bene, ognuno ha l'intelligenza per capire e per sapere che cosa può essere accaduto. Adesso la questione, dico la mia, penso che questa cosa non si farà. Lo dico da analista più che da parlamentare. Io penso che se qualcuno ha maturato questo disegno di sopprimere le corti di appello, non ce la farà. Per tante ragioni. Non ce la farà. Perché sopprimere la corte di appello, con tutto ciò che significa, già noi sappiamo che significa sopprimere il Tribunale di Melfi, dal punto di vista della ha tenuto la legalità in un posto, in una zona della Basilicata, aggredita dalla micro criminalità pugliese, ed è il luogo nel quale ha operato in questi anni, hanno operato nel territorio del Melfi, le colonne militari dell'Andrangheta, della Camorra e della mafia. Risulta dagli atti giudiziari. Devo dare atto e merito al Tribunale, all'insieme, alla Corte di Appello e al Tribunale di Potenza, alla direzione distruttuale antimafia, da un certo punto in voi di aver fatto un grande lavoro. Già sappiamo che significa questo. Immaginate che cosa si può significare sopprimere la Corte di Appello con tutto ciò che è stato già detto. Allora, la verità è più semplice. Qualcuno pensa di sopprimere la Regione Basilicata. non è un problema di riforma. Ora, Roberto Speranza, che è ancora il mio capogruppo e che ha una grande capacità, ha una stima, un rispetto, cerca con grande difficoltà nel Parlamento di colloquiare, di tenere in relazione. Un governo che per il momento fa grandi annunci, un governo che ha un estrocomunicativo fortissimo. C'è un gruppo parlamentare fatto anche di 300 persone, che rappresenta tutto il Paese. E quindi ci potrà spiegare sicuramente tutto quello che vorremmo accettare sull'importanza delle riforme, dei cambiamenti. D'altra parte, l'Europa lo dice chiaro, non ci vendete prodotti avariati, sostanzialmente dice fate riforme serie. Allora, sopprimere le Corte di Appello francamente non è una riforma seria. Sopprimere le Corte di Appello è una sciocchezza, anche se questo è costarmi di non solidarmi più con qualche esponente di governo, con tutto il rispetto per questi grandi uomini, sopprimere quattro Corte di Appello e sopprimere di potenza è una sciocchezza. Oppure non è una sciocchezza di qualcosa di più. Oppure qualche maligno pensa e dice che sopprimere la Corte di Appello è una cosa che può servire molto, perché togliere il presidio giudiziario fondamentale, eliminare l'antimafia, eliminare un po' di altre funzioni, significa che praticamente qualcuno, i grandi potentati economici, possono avere le mani libere su questa cosa. Ora, io ho diretto la battaglia di Scanzano, come sempre, dal mozzo. In questa regione, se c'è uno che è stato sempre nel mozzo a lavorare, con grande dignità e con grande onestà sono io. E mi deciderò a raccontare bene le storie di questa terra, terra complicata, nel quale accadono fatti che non si comprendono facilmente. So come l'abbiamo vinta quella battaglia, so chi c'era dietro quelle cose, Presidente Autero. Lei lo sa come me e meglio di me. E lei sa meglio di me che il prezzo di quella battaglia l'ha pagato Filippo Bubbico anni ad opera di una magistratura lucana che non ha fatto bene il suo dovere. Non è facile pensare e ripensare a Scanzano, anche perché in questi anni gli elementi di legalità in questa terra sono man mano scemani. E io sono però fiducioso, l'ho detto qualche giorno fa, sono molto fiducioso che proprio sulla questione del rapporto tra ambiente, salute e produzione industriale. La magistratura può tutelare meglio di altri cittadini lucani. E se un politico che è sempre stato garantista, non giustizialista, oggi è costretto a dire che si sente più garantito per il suo futuro dalla magistratura anziché dalla politica, caro Cosimo, questo è tutto dire. Io lo faccio e lo dico in totale coscienza, in totale umiltà e con grande amarezza. Purtroppo è così. E allora qualcuno lo dica se vuole sopprimere la Basilicata. Noi ci organizzeremo. Siamo pochi. Non abbiamo il peso che abbiamo sullo scenario nazionale, ma siamo un popolo fiero, siamo un popolo dignitoso, siamo un popolo che ha resistito a tante cose. Siamo un popolo capace di trovare anche i momenti di unità, pur nelle contorsioni che la politica vive. Siamo un popolo nel quale, sia di destra o di sinistra, sappiamo guardarci negli occhi. Anzi, aggiungo di più, forse noi sapremo guardarci negli occhi e non essere più né di destra né di sinistra. Sapremo essere semplicemente lucani e anche questa battaglia la vinceremo. Grazie.